Armonie d'Arte Festival, dodicesima edizione, quest'anno inauguriamo sabato 7 luglio con un altro grande evento internazionale in esclusiva per il Sud per tutto il 2012. Il grandissimo, straordinario pianista jazz statunitense Cicoria con il nostro versatilissimo Stefano Bollani in duo. E per noi questo è un grandissimo onore perché Cicoria è di origine del Catanzarese ed è la prima volta che arriverà nella sua terra d'origine. Con un programma che si jazz ma anche di contaminazione stilistica a tutto campo, quindi anche contemporanea, classica e un omaggio particolare per la Carabbia. Sarà una sorpresa per tutto il pubblico, sarà un momento di riflessione diciamo sonora sull'identità calabrese. Quindi Armonie d'Arte rimane in linea con la sua filosofia di coniugare i grandi nomi, il grande cartellone ma anche con la ricerca culturale e proporre quindi sempre programmi interessanti, artisti mediaticamente forti che dalla loro hanno una storia personale, da Star System sì, ma anche di grande significato, di grande valore artistico. E naturalmente Armonie d'Arte sa che tutto quello che vuol raccontare ha un senso se saremo insieme ad ascoltare. E quindi un invito, un invito per tutti per sabato 7 luglio come al solito al Parco Scolacium che è il nostro posto diremo. Armonie d'Arte è il Festival del Parco. Sarà un po' uno sforzo quest'anno inaugurare perché inizia un nuovo triennio di finanziamenti possibili, speriamo. E sappiamo che al sud è molto difficile ottenere finanziamenti per la cultura ma i finanziamenti pubblici per la cultura sono essenziali. In Italia, in sud in particolare, dove non ci sono possibili politiche di finanziamenti privati, le cosiddette sponsorizzazioni. Sicché quest'anno sarà un po' un'edizione ponte, stiamo partecipando a un bando regionale fondi POR triennale. Tutti noi stiamo incrociando le dita, ma intanto inauguriamo, andiamo avanti, sappiamo che il nostro pubblico ce lo chiede. Siamo, consentitemi di dire, coperti di mail, di richieste. Pensiamo che sarà una grande festa anche quest'anno. E allora, Ciccoria e Bollani, noi tutti vi aspettiamo. Per ogni informazione www.armoniedarte.com Senza apostrofa